lo splendido disco lunare apparirà all'orizzonte guardando verso est la superluna azzurra del 31 agosto sarà un evento quasi irripetibile e quindi assolutamente da non perdere a como come tutta italia la superluna raggiungerà la sua pienezza nelle prime ore della notte di giovedì 31 agosto intorno alle 335 ma sarà visibile in italia solo giovedì sera più o meno a partire dalle 2020 a seconda della zona cui vi troverete lo splendido disco lunare apparirà all'orizzonte guardando verso est superluna blu perché è così rara il primo motivo per non perderla come spiegano gli esperti tre bimeteo è notevole vicinanza del nostro satellite alla terra 357.344 chilometri contro una distanza minima possibile 356.410 chilometri la renderà fatto una superluna più grande e bella nel mondo anno il secondo che sarà quello gli conferirà unicità sarà un plenilunio per così dire imprevisto dal calendario infatti questo mese agosto conta cinque fasi lunari e conseguenza due pleniluni ora in anno ci sono generalmente solo 12 pleniluni ma ogni due anni e mezzo capita che ce ne sia tredicesimo plenilunio non previsto dalle tradizioni popolari e che quindi non ha nome ufficiale per questo motivo il tredicesimo plenilunio luna dell'anno si chiama luna blu quella del 31 agosto sarà la tredicesima ed inaspettata luna piena dell'anno e quindi luna blu ma allo stesso tempo anche superluna quindi superluna blu l'evento astronomico non sarà diverso da normale superluna ma la sua estrema rarità lo rende unico